Rudy Garcia cercava la striscia in campionato, cercava la terza vittoria di fila dopo quelle esterne di Lecce, quella prima in casa con Ludinese, due poker, 4-1 Ludinese, 4-0 a Lecce. Poi la sconfitta in Champions League con il Real Madrid, prima della siosta si attendeva una vittoria del Napoli contro la Fiorentina, scontro Champions, la Fiorentina che invece viola nuovamente lo Stato Diego Armando Maradona, vantaggio viola con Becalo. Poi il pareggio al termine del primo tempo di Vittor Rosimane su rigore nella ripresa, nuovo vantaggio toscano con Buonaventura, quarto gol in campionato, sesto gol al Napoli, la sua vittima preferita, non aveva mai segnato ai partenopei però in maglia viola. E poi sul finale di gara anche il terzo gol gigliato lo segna Nico González, l'argentino marca male per il Napoli, discutibilissimi i cambi, gli azzurri che nel primo tempo hanno perso anche Frank Zamban, chissà, per infortunio per la seconda volta in stagione, ricordiamo che si fermò a Cassetti Sangre, fu recuperato in extremis per la prima partita con il frosinone Rudi Garcia, si è detto responsabile della sconfitta di questo momento del Napoli che quando alza il livello perde, lo dicono i fatti con il Real Madrid, con la Fiorentina e prima con la Lazio. Ciò scivola nuovamente a meno sette dalla vette campione d'Italia, così dopo otto giornate di campionato, la seconda sosta stagionale, sono arretrati in classifica e adesso la squadra azzurra non è nemmeno più in zona Champions, in piena zona Champions come voleva Rudi Garcia, quindi c'è tanto da lavorare perché nuovamente problemi di natura tattica oltre alla tenuta psicofisica e certamente hanno fatto discutere i cambi. Per Garzia le responsabilità, ripetiamo, sono sue ma non dà nessuna colpa ai cambi, purtroppo non gira neanche bene al tecnico transalpino del Napoli perché difficilmente i suoi cambi portano agli effetti sperati. Adesso nuova sosta per la Nazio Napoli che sarà in campo, in giro per il mondo e alla ripresa ci sarà la trasferta di Verona di sabato, sarà il match del 20 e godi ad attivare il nono turno. Ricordiamo che ottobre si concluderà con altre due gare, dopo Verona in Napoli andrà a Berlino di martedì il 24 ottobre e poi arriverà allo stagio Diego Armando Maradona, il Milan attuale capolista del campionato di Serie A 2023-2024. Si conclude così la decima partita ufficiale della stagione 2023-2024 del Napoli. Appuntamento al 20 e godi di Verona. Ciao!